La banda del Bancomat colpisce ancora in provincia di Salerno. Questa notte intorno alle 2.35 gli specialisti hanno fatto saltare il Bancomat della Banca Carime di Roccapiemonte di piazza Zannardelli, zona centrale della città. Sul posto le forze dell'ordine con i carabinieri che hanno avviato le indagini. La banda ha agito con modalità già note facendo esplodere il Bancomat e fuggendo via con le cassette che contengono il denaro. Il buato è stato forte ed è stato udito dai residenti. Sono scoppiate anche i vetri della banca. Ancora da accertare l'ammontare del bottino ma sarà ingente perché il Bancomat era stato ricaricato per i weekend. Non a caso i malviventi hanno agito proprio nella notte che precede il fine settimana. Gli inquirenti stanno seguendo varie piste. Ad aiutarli potrebbero essere le immagini di alcune telecamere.